Un impegno costante, quello della protezione civile regionale sotto l'Agenzia di protezione civile, sin da primi momenti della pandemia, essenziali gli uomini e le donne in maglia blu nella consegna di dispositivi di protezione individuale nei primi momenti, nel montaggio di tende, nel supporto alla campagna vaccinazioni, oltre alle attività tradizionali. A tracciare un bilancio di un anno intenso di lavoro è il dirigente Silvio Liberatore, che assieme ad altri colleghi e colleghe di protezione civile, ha ricevuto proprio oggi in prefettura l'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica per le attività svolte nella prima ondata di Covid-19, fondi impiegati, un lavoro incessabile, un coordinamento fitto anche dei tanti volontari che hanno preso parte alle operazioni. Il bilancio è che è una squadra di protezione civile, un'eccellenza regionale, ce l'hanno riconosciuto tutti, il Presidente della Repubblica ci ha ricevuto più volte, il Papa due volte, abbiamo avuto tanti riconoscimenti, ma naturalmente dovuto all'esperienza che abbiamo accomunato, purtroppo tante calamità, l'ultima la pandemia, abbiamo impegnato, speso oltre 45 milioni, oltre 130 mila giornate di attività dei volontari, abbiamo montato 100 tende, abbiamo tamponato tutto l'Abruzzo, stiamo dando supporto ai vaccini, Covid, hotel, insomma una squadra eccezionale. In un momento in cui l'Abruzzo si appresta a diventare tra qualche giorno zona bianca, l'attenzione è sempre alta, ma i numeri fanno ben sperare, non si allenterà però il supporto della protezione civile regionale che continuerà ad essere punto di riferimento per la popolazione e che collaborerà in sinergia con altri enti. Il ruolo sarà sempre quello di supportare i cittadini, cercare di mantenere le istanze sociali, mantenere anche il controllo su tutte le attività produttive, commerciali, ma sempre con discrezione.